Organizzeremo quanto prima una conferenza dei donatori in Italia ma in una anche delle altre nazioni. Già abbiamo almeno due nazioni che si sono candidate a ospitare la prossima tappa di questo evento. Quindi è una grande giornata ma è da considerarsi ovviamente come l'inizio di un lavoro che durerà molto tempo. Noi il prossimo anno saremo presidenti del G7 come lei sa 2024 e io ho già annunciato che il tema del Mediterraneo, dell'Africa, delle migrazioni, dello sviluppo sarà uno dei temi portanti della nostra presidenza del G7.